una buonissima serata a tutti voi grazie per essere come ogni sera alle 19 puntualissimi in mia compagnia certamente siamo ad angoli e prima di iniziare l'appuntamento della sera andando a conoscere gli ospiti che sono qui con noi vi ricordo come sempre che potete restare in contatto con la nostra redazione semplicemente inviando una mail al nostro indirizzo di posta che vi ricordo è sempre angoli chiocciola espansoletv.it questa sera abbiamo degli ospiti davvero straordinari che hanno portato a casa dei risultati meravigliosi e sono qui questa sera per raccontarceli tutti nel dettaglio partendo dalla presidente dell'associazione osa asp mari maria angela volpati ciao maria angela bello rivederti anche perché ci siamo viste l'ultima volta con grandi speranze e tutto si è concretizzato con successo è così sì questo è proprio diciamo la soddisfazione di vedere i ragazzi che sono andati ai campionati e sono tornati con delle medaglie soprattutto con grande soddisfazione e allora li presentiamo subito dalila vignando ciao dalila grazie per essere tornata hai tante medaglie con te tu sei un atleta della nazionale italiana di nuoto fisdir e tra poco ci racconterai questa esperienza meravigliosa insieme a te l'hanno vissuta anche marco di silverio ciao marco ben ritornato vedo che anche tu hai dei risultati molto belli anche tu sei un atleta della nazionale italiana di nuoto fisdir e grazie anche a già luigi franchetto ciao luigi anche tu sei qui con dei bellissimi risultati tra poco ce li racconterai nel dettaglio ovviamente ma lo ripetiamo anche tu sei un atleta della nazionale italiana di nuoto fisdir allora loro sono partiti con grande entusiasmo la scorsa estate qualcuno per alcune performance qualcun altro per altre ma la cosa bella è che sono andati tutti a podio e tutti hanno portato a casa dei grandissimi risultati detto questo che cosa pensi tu di queste bellissime performance di questi risultati così importanti beh chiaramente una grandissima soddisfazione sia personale perché comunque io li amo ecco poi si vede soprattutto per loro e soprattutto per i tecnici certo perché ecco qui vorrei proprio ringraziarli perché l'impegno che danno durante l'anno è anche merito di poi di questi risultati per cui vorrei proprio ringraziare davide balestrini federico ugolini claudia la loggia e paolo la torrata perché l'impegno che ci mettono durante l'anno ha comunque avuto una concretizzazione con i risultati di questi ragazzi quindi questi sono i tecnici che tu ovviamente vuoi ringraziare perché hanno aiutato questi ragazzi a raggiungere i loro risultati ma sentiamo se anche loro insomma pensano nello stesso modo e vogliono ringraziarli in così con lo stesso cuore col quale l'hai fatto tu dalila parto subito da te anche tu credi che i tecnici siano stati fondamentali per i tuoi risultati li vuoi ringraziare io compreso tutti perché voglio ringraziare davide perché veramente mi ha seguito molto dietro alle mie spalle ti è stato sempre vicino sempre vicino con tanto contatto affetto io ho bisogno davide e anche gli altri perché loro mi ha mi ha lasciato la corrente per visionare i campionati mondiali sei molto affezionata ai tuoi tecnici vuoi bene a loro tantissimo tantissimo e si vede anche perché sei emozionata mentre lo racconti marco lo chiedo anche a te questo risultato così importante secondo te è anche merito dei tecnici che ti hanno aiutato e ti hanno preparato li vuoi ringraziare di sicuro c'è qualcuno più di un altro al quale sei legato andato pesco davide più bravo anche anche per stefano tanti bravi quindi grazie per loro quindi insomma tutti insieme molto uniti per per arrivare a dei risultati già luigi ovviamente anche a te lo chiedo c'è un tecnico in particolare o tutti quanti che sono stati determinati soprattutto ovviamente ringrazio anche i nostri genitori che ci portano avanti e indietro ecco per quanto riguarda i tecnici comunque gli sporsi che ci fanno eccetera eccetera ci fanno tante di quei lavori proposte per migliorare e poi ringrazio anche i miei compagni che ci danno supporto e ogni volta per farci sempre il tifo quindi c'è davvero una grande complicità una grande unione un affetto oltre al fatto insomma di avere la vicinanza dei tecnici che ovviamente allenano questi ragazzi ma nasce anche un rapporto personale profondo e c'è tanta condivisione questa è una caratteristica importante vedere il gruppo è molto bello importante perché al di là di loro c'è dietro l'altro gruppo che li segue e vedere i tecnici che sono molto vicini ai ragazzi è una grande soddisfazione infatti anche dalle altre associazioni ci viene detto siete un bel gruppo perché vedono l'affiatamento e questa è la cosa secondo me molto importante quindi fate un po' la differenza rispetto agli altri avete qualche cosa in più anche a livello tecnico perché a volte ci viene proprio io ho sentito a volte stando sugli spalti gente di guarda guarda la tecnica che hanno quindi vuol dire che anche il fatto dell'allenamento comunque comporta cioè è importante certamente quindi assolutamente indispensabile ringraziare i vostri tecnici ma a questo punto visto che i risultati sono stati straordinari tutti questi ragazzi sono andati a podio con successo infatti qui sono carichi di medaglie e tra poco ce le racconteranno nel dettaglio allora raccontiamo agli amici che stanno a casa quali tipo di gare insomma questi ragazzi hanno affrontato allora Dalila e Marco sono andati ai campionati mondiali a Truro in Canada Gianluigi invece è stato chiamato dalla nazionale per andare ai campionati europei Ghinas a Parigi tutti nel periodo di luglio quindi percorsi differenti ma in ogni caso di grande successo bene allora andiamo direttamente dai ragazzi e sentiamo un po' come hanno vissuto questi momenti Dalila inizio da te con che cuore sei partita che cosa pensavi dentro di te quando sei partita per questi campionati? Io ai campionati mondiali in Canada io mi sento tanta emisionata e veramente mi sento la correnta adesso a me per vincere devo frequentare e voglio migliorare i miei tempi voglio dedicare una persona che non mi piace più Quindi insomma c'è anche tanta emozione in questa tua prova della vita Sì Che gare hai vinto? Hai tante medaglie lì con te? Ho vinto un terreno di medaglie d'oro nelle staffette che ho fatto il record del mondo se ho fatto la staffetta e ho fatto il record europeo voglio dedicare al mio paese veramente la mia scuola soprattutto che mia nonna non c'è più Senti è molto bello da parte tua voler dedicare questo risultato e questo grande impegno alle nonne perché le nonne sono molto molto importanti per tutti quindi grazie Dalila per questo omaggio a tutte le nonne Marco vengo anche da te Quando sei partito per questi campionati che cosa provavi dentro di te? Avevi paura? Avevi voglia di vincere? Che cosa sentivi? Sentivo emozionante, la renta, il nervoso che volevo vincere perché voglio vincere perché è un bel impegno tutti i giorni e tutte le sere siamo in piscina quindi un bel impegno Quindi Marco tu pensi che a queste gare bisogna partecipare per vincere? Esatto Bisogna partire con questa idea assolutamente Qui abbiamo ragazzi determinati Mariangela non so e te che cosa centriamo qui? Loro sono determinati, hanno voglia di fare riescono a portare a casa dei risultati Meno male E a questo punto sentiamo anche Gianluigi Tu invece hai eseguito le tue performance in un altro tipo di campionato e anche tu hai portato a casa dei risultati bellissimi Anche a te la stessa domanda Quando sei partito come ti sentivi? Allora inaspettato perché la chiamata l'ho ricevuta purtroppo all'ultimo minuto è stata una cosa veramente emozionante Anche di più perché forse non te lo aspettavi Esatto il mio primo campionato all'estero Io purtroppo ho sempre gareggiato sempre a Luano però dopo un po' comunque ho imparato a conoscere anche nuove aspettative nuove sfide molto importanti per me Quindi è stata davvero un'esperienza nuovissima per te E quindi con che spirito sei partito? Eri emozionato? Beh soprattutto con rinta con decisione e con fiducia in se stessi lottando lo stesso comunque facendo anche con quei buoni risultati E hai portato a casa quante medaglie? Cinque medaglie Cinque bronzi Quindi insomma questi ragazzi sono davvero degli atleti meravigliosi Dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi di averli insomma dalla nostra parte perché sono davvero dei grandissimi atleti e dei grandissimi nuotatori Mariangela torno da te nel senso abbiamo ben capito la preparazione, la tenacia, il coraggio, la voglia di arrivare la voglia anche di superare qualunque tipo di limite e di barriera quindi la realtà, l'associazione che peraltro tu hai detto viene vista anche dagli altri un po' come un punto di riferimento perché davvero avete delle cose in più quindi lo sport, il nuoto è uno strumento insomma per far meglio, per fare tutti insieme per dimostrare che le capacità ci sono e che arrivano i risultati Sicuramente Sicuramente questo è importante io mi auguro per loro in questo momento che sono in un momento della fase della vita in cui diciamo tutti noi lavoriamo che sia una vittoria che hanno avuto dello sport ma che ci sia anche la vittoria di trovare lavoro cosa cui loro ambiscono veramente sarebbe bello che nella società che anche qui a Como qualcuno li accogliesse per accoglierli nel lavoro sarebbe la vittoria della vita, la cosa più bella Quindi successo nel successo, questo sarebbe davvero un aspetto molto importante Sarebbe bello venire un domani ancora a Angoli e dire ecco Dalila, Marco e Gianluigi sono stati accolti e hanno trovato il loro lavoro questo sarebbe forse il completamento Il coronamento di questo grande percorso Io intanto invito nuovamente in questi ultimi minuti che abbiamo a disposizione i ragazzi a mostrare le loro medaglie Attenzione al microfono, mostratene almeno qualcuna a favore di camera che è lì davanti a voi perché ovviamente noi siamo molto contenti del vostro racconto ma queste medaglie non le abbiamo mai viste e quindi è bellissimo insomma poterle ammirare Ecco, i nostri tecnici riescono ad inquadrarle Eccole qua e quindi davvero dei risultati grandissimi dei quali siamo molto 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 orgogliosi Detto questo, vista la tenacia, visto il talento, la voglia di fare di questi ragazzi Dalila, parto sempre da te perché sei la prima, quindi per forza Tu hai voglia di fare ancora di più? Pensi di poter fare ancora di più di quello che hai fatto? Io voglio arrivare di più, voglio migliorare veramente i miei risultati voglio la fine, l'altra ragazza e dopo ho finito Tu hai vinto anche degli ori? Sì Quindi più di questo che cosa vuoi fare ancora? Tutti ori vuoi portare a casa? Sì, voglio portare a casa tante medaglie d'oro E venire ad Angoli a raccontarle e farcele vedere Benissimo, non siamo qui Marco, anche tu hai voglia di continuare in queste sfide? Sì, perché è un bel impegno Ho avuto tante medaglie Ho delle medaglie in camera Non so quanto mi riesco a contare Quindi insomma davvero successi incredibili Però continua ad esserci la voglia di fare Gianluigi anche tu vuoi metterti ancora alla prova Cercare di fare meglio? E volevo anche aggiungere anche il fatto che comunque serve Un'ottima performance Bisogna essere sempre pronti, capaci Qualunque cosa succeda Perché è proprio da lì che nasce un vero spirito sportivo Bene, io che dire Davvero siamo in clusura di questo tempo Dedicato a queste persone straordinarie Al di là della soddisfazione Dell'aver raccontato i risultati sportivi Io credo che sia stata davvero Come dire, un'ospitata istruttiva Perché questi ragazzi ci hanno fatto capire Come si può fare Come si devono affrontare gli ostacoli E soprattutto come si può superare ogni difficoltà Portare a casa un bel risultato Ma una volta portato a casa Si può tentare di fare ancora meglio Quindi insomma io vi ringrazio Perché siete stati straordinari Grazie a Mariangela Volpati A Dalila Bignando A Marco Di Silverio E a Gianluigi Franchetto Per essere stati qui ad Angoli A raccontarsi così come si fa tra amici Grazie davvero Grazie Dolores Bene, grazie anche a voi Ma rimanete lì non troppo emozionati Lo so Perché tra poco Angoli torna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti